Ieri al via le prime esercitazioni legate al rischio bradisismico in una scuola di Napoli, una di Bacoli e due di Pozzuoli. Un bilancio positivo, ha dichiarato il ministro della protezione civile Nello Musumeci, intervenuto all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Bacoli, Ermanno Schiano, e che sui fondi inerenti il territorio flegreo ha lanciato un messaggio di dialogo rivolto alle istituzioni, dopo le varie polemiche che hanno coinvolto il governatore De Luca e il ministro Fitto. Io sono convinto che su questo fronte, se si parlasse un po' di meno, se si gridasse un po' di meno e se si dialogasse un poco di più, forse riusciremmo tutti a trarne vantaggio. Però, ecco, cominciamo intanto con la pianificazione e oggi sono contento di essere stato invitato a parlare ai nostri amministratori e a chiunque vorrà accostarsi di quali sono i problemi di fronte ai quali ci troviamo e soprattutto come affrontarli e alcuni anche risolverli. Il candidato schiano durante l'incontro ha poi annunciato quali saranno i primi interventi per il territorio in caso di vittoria. Il prima delibera che facciamo nei primi 15 giorni del sediamento sarà la sospensione del PUC in autotutela per interesse pubblico, una delibera che sarà adottata dall'Aggiunta e poi ratificata dal nuovo Consiglio Comunale. Altra delibera sarà quella sull'estate sicura, quindi un tavolo di coordinamento con le forze dell'ordine e la rimodulazione di tutte le ZTL così come condivise con il territorio.